Va ora in onda Poesie dal cuore, un programma di Sonia Biesuzza. Ed eccoci nuovamente qui amici carissimi, un buongiorno a tutti voi ben lunesi in giro per il mondo che ascoltate il programma e rubrica Poesie dal cuore di Sonia Biesuzza. La poesia che vi leggo oggi si intitola Suona il violino. Suona il violino, presto al mattino. Suona il violino, in coro col cinghettino del canarino. Suona il violino, il giovane artista. Suona il violino, da bravo musicista. Suona il violino, con passione. Suona il violino, coinvolgendo del pubblico la propria ammirazione. Suona il violino, con devozione, riscuotendo in una grande approvazione. Suona il violino, il giovane artista. Suona il violino, da bravo concertista. Vi è piaciuta? Spero di sì. Questa è dedicata a chi suona il violino, perché suonare il violino è una passione ma anche molto difficile. Io non sono mai stata brava a suonare il violino, però ammiro chi lo fa, perché la musica del violino è una cosa speciale, elegante e una cosa suadente. Secondo me è una musica molto suadente. Complimenti che suona il violino. Amici carissimi, anche per oggi siamo giunti al termine di questa puntata. Spero che le mie poesie vi piacciono. Se avete voglia di inviarmi qualcosa di vostro, qualche vostra poesia, qualche vostro racconto, qualche vostro aneddoto, mandatemelo pure tranquillamente che io ve lo leggo in diretta. E perché no, anche qualche vostro ricordo. Sarebbe ben bello condividerlo con tutti quanti. Anche per oggi, amici carissimi, siamo giunti al termine di questa puntata. Io sono sempre Sonia Biesuzza dal programma Rubrica Poesie dal Cuore. E a tutti voi che mi ascoltate, un grandissimo abbraccio e un saluto. Ciao a tutti, ciao! Avete ascoltato Poesie dal Cuore, un programma di Sonia Biesuzza.